Ciao a tutti, vediamo come possiamo togliere la riproduzione automatica dei video su YouTube da dispositivo Android. Quindi quella funzione che ha automaticamente finito un video ce ne fa partire un altro. Abbiamo due modi per farlo. Il primo è premere in alto a destra dove c'è l'icona del nostro account e da lì andare su impostazioni e dal sottomenu che compare premere la terza opzione che è riproduzione automatica. Verrete mandati in una pagina con solo una cosa che possiamo cambiare che è la riproduzione automatica. Potete metterla on o off. Altrimenti se siete su un video vi basta premere sopra il video come se voleste stopparlo e notate che ci sono delle icone in alto a destra sul video. La prima icona è quella della riproduzione automatica. Se ci fate caso è esattamente uguale al bottone per attivare e disattivare la riproduzione che abbiamo premuto pochi secondi fa. Voi da lì potete controllare la riproduzione automatica e vale su tutta l'applicazione quindi non solo su quel video. Ecco qua se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento. Ciao ciao!